Un cordiale saluto, buon venerdì 29 maggio a tutti voi che ci state seguendo sempre con tanto interesse qui sul nostro canale che tutte le mattine alle 7.30 puntuale si apre in diretta con l'informazione, l'informazione che arriva dai giornali, i quotidiani che hanno gli inserti della provincia di Peso Urbino, vale a dire il resto del Carlino, il Messaggero ed il Corriere Adriatico. Cominciamo dal Santo del Giorno prima però e vediamo che santo è oggi. Oggi la Chiesa ricorda San Massimino Vescovo, il sole è sorto alle 5.31 e tramonterà alle 20.41. Oggi dicevamo che ieri sarebbe stata una giornata dove le Marche non avrebbero visto nemmeno una nuvola e difatti ecco questa l'immagine della nostra telecamera dell'osservatorio meteorologico di Fano TV accessibile dal sito internet. Una giornata con questo cielo straordinario, bello, azzurro. Ok? Allora temperature 13 gradi alle 7.30 del mattino per chi ci segue in diretta. Ecco qua. Allora, cielo sereno poco nuvoloso, temperature in aumento per la giornata di oggi, domani 30 maggio, lo stesso cielo sereno poco nuvoloso con temperature in ulteriore aumento per la giornata di domenica. Si guasta un po' nell'entroterra. Vedete la parte centro-meridionale della regione Marche. Isolati temporali infatti ci saranno nelle ore centrali della giornata di domenica, nel primo pomeriggio più probabili sui rilievi meridionali della regione. Per il resto avremo lungo la costa, per chi desidera andare al mare, per passare qualche ora al mare tutto ok perché c'è il sole lungo tutta la costa adriatica. Avremo temperature in ulteriori lì a momento. Il mare sarà poco mosso, i venti di brezza tesa settentrionale. Dunque, per quanto riguarda la tendenza per i giorni successivi, indicazioni di tempo soleggiato con instabilità nelle zone interne nella prima parte della settimana, seguito da un probabile rapido peggioramento nella giornata di giovedì. Ci sono diverse notizie questa mattina sui giornali importanti. La Polizia, la Guardia di Finanza hanno messo a segno dei colpi importanti. Per esempio, a Fanno sono stati scoperti quei finti corrieri e quindi sono stati arrestati tre napoletani che avevano messi a segno colpi in giro per l'Italia, così come la Guardia di Finanza invece che ha scoperto un giro di soldi in nero in una società di pallavolo importante come la Robur Tiboni di Volley Femminile di Urbino che è appena retrocessa in A2 e pagava le sue giocatrici in nero. Non tutte e non sempre, ma lo faceva. E adesso è finito nei guai il presidente, insomma il patron di questa squadra di pallavolo. Tutto quel nero che girava sotto rete, titola il resto del Carlino, la Robur nei guai per evasione fiscale, l'inchiesta della finanza, le giocatrici a volte pagate in contanti. La società madre usava gli sponsor forniti da altre associazioni, tetto dei 250 mila euro. Il controllo sulle sponsorizzazioni in favore di squadre sportive sta mettendo in luce pratiche vecchie e nuove. In questo caso sono entrate in scena diverse associazioni sportive che non hanno alcuna attività agonistica ma solo commerciale. Raccolgono, cioè sponsor e li girano alla squadra blasonata. In cambio di che cosa? Adesso bisognerà chiarirlo. Dalle vacche grasse ai conti secchi qualcuno è rimasto nella rete. Il Carlino fa il punto su questa storia, storia dello sport pesarese, dei suoi sponsor con qualche poco illustre precedente. Insomma c'è stato un tempo, scrive il giornale, in cui la pratica delle sovraffatturazioni nel mondo dello sport era largamente diffusa, ovvero tu mi dai tot di sponsorizzazione e io ti fatturo 4, 5, 6 volte tanto per non dire di più. Succedeva, scrive sempre il giornale, nei tempi allegri in cui l'economia tirava, i soldi giravano e anche lo Stato chiudeva un occhio accontentandosi di quanto gli veniva dall'emerso, da quello dichiarato. Erano gli anni in cui lo sport pesarese poteva contare dal mare alla montagna su decine di milioni di euro di entrate. Per quanto riguarda invece l'altra notizia, a questo punto andiamo sulla pagina di Fano invece del resto del Carlino, dicevamo della polizia che ha scoperto la banda dei finti corrieri. La polizia ha sgominato questa banda che faceva sparire la merce appena consegnata dai corrieri quelli veri. Rubavano merce consegnata. Questo è il titolo, c'è tutto il racconto di come avveniva il meccanismo. Noi ve l'abbiamo raccontato anche ieri sera nel telegiornale, quindi per chi ci segue in replica ci sono, e per tutti insomma, ci sono le repliche del telegiornale alle 11 alle 13.30 oppure sul nostro sito internet c'è l'edizione di ieri online. Poi l'altra notizia, rimaniamo sulla pagina di Fano, è un lutto. Addio a Mario esposto, era il signor Casarredo, aveva 80 anni, se ne è andato appunto all'età di 80 anni all'ospedale di Fossombrone dove era ricoverato da qualche giorno, Mario esposto, figlio di un falegname, lascia l'insegnamento per dedicarsi ai mobili, al design, i funerali domani in Duomo alle ore 15. Ancora dal resto del Carlino lo cercavano per omicidio, era a Montecchio, si nascondeva in questo paese sotto falso nome, dove si è tra l'altro appena sposato, ufficialmente era ucraino, aveva 38 anni e si chiamava Maschim, professione non pervenuta. In realtà di anni ne aveva 33, era moldavo, si chiamava Vengersky e nel 2012 aveva ammazzato in patria un uomo durante una lite per questo era ricercato dalla polizia Moldava per omicidio preterintenzionale. Ancora dai quotidiani, ecco c'è l'altra notizia, purtroppo un altro lutto, vedete sotto, questi lo conoscono in tanti allo stesso modo, trovato morto in casa il DJ Teo. Le cause sono probabilmente naturali, ecco rimaniamo con la fotografia così e molti lo ricorderanno, anche perché lui stava da qualche anno a Rosciano di Fano. Da un po' di tempo non rispondeva, da qualche giorno non rispondeva al telefono, ieri pomeriggio qualcuno ha chiamato i carabinieri per sincerarsi se per Pierpaolo Berti, questo è il nome, 55 anni, in arte Teodij, pesarese, ma residente da qualche anno a Rosciano di Fano, fosse in casa oppure no. Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco che hanno aperto la casa che non era chiusa a chiave scoprendo appunto il corpo senza vite del noto DJ che ha lavorato in discoteche, che abbiamo frequentato un po' tutti, Peter Pan, Valle Chiara, Lemon, Derby. Il decesso sembra appunto risalire a qualche giorno, uno o due giorni fa. Il magistrato valuterà se sarà necessario effettuare l'autopsia. Andiamo sull'altra pagina del resto del carino, si parla del dopo maltempo, tutti al lavoro dopo l'allagamento, il sindaco di Mondolfo, Cavallo, in calza società autostrade, dice Cavallo ho chiesto un sopralluogo urgente, mi auguro che si trovino soluzioni serie. Anche le scuole, le due scuole che erano state chiuse per precauzione hanno riaperto. Andiamo adesso a Fossombrone, la pagina del carino, si occupa della class action su posta sprint. La class action è una denuncia collettiva. Dunque la class action su posta sprint si raccolgono i primi frutti, ottenuto il sequestro conservativo di alcuni immobili, i cittadini pagarono bollette a vuoto. È una società posta sprint, evidentemente una società privata. Poi, sempre da Fossombrone, la sanità è la priorità, ma non dimentichiamo trasporti e strade, c'è l'intervista a Renzo Savelli che è candidato. Apriamo adesso il Corriere Adriatico. Da Pesaro la notizia dei mercatini agricoli che avranno degli spazi ben definiti per poter vendere i loro prodotti a chilometri zero. Ci sono però ovviamente anche delle regole, nuove regole, che stabiliscono il modus operandi di come poter vendere questi prodotti. Allora vi dico soltanto che a Pesaro l'amministrazione ha individuato tre aree pubbliche su cui fare questi mercatini, il quartiere Cinque Torri, Vismara e Cattabrighe. Poi anche qui si parla sul Corriere dell'Evasione Fiscale dove è indagato Sacchi, lo vedete il presidente della Robur Tiboni Giancarlo Sacchi che è finito nell'inchiesta condotta dal PM di Urbino Irene Lilliu e affidata alla Guardia di Finanza che ha fatto un blitz nelle sedi di sei società di pallavolo tra cui anche la Robur Tiboni. Il patron dice tranquillo qui sul Corriere ma in realtà sul resto del Carlino non ce l'abbiamo, la seconda pagina non ve l'ho fatta vedere però ecco, in virgoletato è che me l'aspettavo in qualche modo, questo è quello che ha dichiarato o comunque che ha raccolto il resto del Carlino. Effettuate 34 perquisizioni domiciliari nelle province di Pesaro Urbino, Forlì, Ravenna, Rimini e Bari. False avvatturazioni e sponsorizzazioni gonfiate così frodava il fisco secondo le fiamme gialle. Poi questa mattina si inaugura l'Expo alla data di Urbino alle 11, pubblico e autorità si ritroveranno nella zona di Borgo Mercatale. Il resto del Carlino, qui torniamo indietro, la pagina di Fano racconta la storia e la protesta che ha ottenuto anche dei buoni risultati, la storia di Eugenia che per un mese ha fatto gratis l'interprete. Il comune taglia sui sordi ma loro trovano l'eroe. Non me la sono sentita di abbandonare quelle persone ad un silenzio assurdo e qui c'è la storia appunto, così come si parla di un caso, un caso di un disabile multato che ha parcheggiato nelle strisce blu. E poi il giallo di Pegan che è scomparso in Albania. La storia è stata raccontata in tv da Magalli e dalla sorella e ora l'Albania indaga per omicidio. Poi dopo la bandiera blu rinviata anche la conferenza stampa, quella del venerdì mattina dal sindaco di Fano, rinviata alla conferenza dopo il ricorso dei 5 Stelle al prefetto e al Corecom. Il Corecom sta per Comitato regionale delle comunicazioni delle marche per la violazione della legge che disciplina la comunicazione istituzionale in campagna elettorale. Quindi niente conferenza stampa questa mattina, ma tanto i polici li ritroviamo a essere l'inaugurazione stamattina alla data, quindi figuriamoci, sarà una bella passerella. Allora torniamo sul Corriere Adriatico, eccola qua, sgominata la gang del falso Corriere, inscenavano un'errata consegna, due arresti e una denuncia dopo una razzia di scarpe di lusso a Fano. I colpi sono stati messi a segno in mezzo a Italia con lo stesso escamotage, hanno fruttato fra i 30 e 40 mila euro. Caso Pegan Piscitelli gela le speranze della famiglia, il commissario straordinario per le persone scomparse, ospite di Magalli, dice la denuncia purtroppo è stata presentata, troppo in ritardo. Cavallo, sindaco di Mondolfo, denuncerò la società autostrade, sempre a proposito del maltempo, poi sotto rimosso il vecchio ponte mobile, ora tocca alle vele pubblicitarie, la passerella non sarà utilizzata né sull'Arzilla né alla Darsena, poi sempre sulla pagina di Fano del Corriere un rischio risolvibile con le strisce pedonali, le strade pericolose protestano i residenti di Tre Ponti. Ancora velocemente spiaggia di Sassonia avviato il ripascimento grazie al deposito di ghiaia prelevato dal metauro e in piccola parte lungo l'argine del torrente Arzilla. Apriamo velocemente il messaggero a un bivio, il distretto del mobile, oggi in programma il convegno della filea CGL a cui partecipano anche Cosmo e Confindustria. Poi ancora le due interviste che potrete leggere sul messaggero, quella di Luca Ceriscioli che dice vinciamo noi, spacca lo sa già, è disperato, insegue il rillo sul reddito di cittadinanza, la vera sfida è arrivare al 40% e avere grandi numeri. Poi l'altra intervista invece lo sfidante Gian Mario spacca, dice marche forti, siamo pronti, c'è chi ancora non ha capito che siamo in una fase nuova, produrre reddito per avere le risorse da destinare al welfare. E poi Ceriscioli e Renzi sarà selfie alle muse, il premier ad Ancona dopo aver visitato le Rainbow di Straffi, piazza blindata, centri sociali studenti annunciano un corteo, Matteo Ricci per cambiare serve un grandissimo gioco di squadra e un grande allenatore. e siamo certi che Luca, Luca Ceriscioli, ce la farà, ce la farà. Torna a striscia la notizia e intercetta di nuovo le onde delta, nel mirino dell'inviato del Tg Satirico finisce una fisioterapista pesarese che utilizza la pratica messa sotto inchiesta alcuni mesi fa. Si avvicina il palio a Pesaro, le contrade si muovono, Soria apre la serie di feste e incontri, nei quartieri poi scatteranno colori e bandiere nelle vie e alla Rocca. Stiamo parlando del palio dei Braceri, anche qui l'operazione Vatussi per acquisizioni alla Ribur, poi taglio del nastro alla data, si apre oggi la porta dell'Expo, allagamento Mondolfo chiede i danni. La pagina di Fano invece, anche qui sgominata la banda del falso corriere, poi un collettore per le emergenze del maltempo della pioggia in Viale Piceno, il progetto è lo studio di Aset Holding che ha fatto un sopralluogo insieme ai tecnici del Comune e del Consorzio di Bonifica nelle zone colpite dagli allagamenti. Poi sotto si parla del centro ITECA, pronto il salvataggio, poi crisi e turismo, i temi più cavalcati. Il giornale parla ovviamente dell'ultimo giorno di campagna elettorale per i candidati in corsa per la Regione Marche. Ed è tutto, grazie per averci seguito, buona giornata a tutti.